La ragnatela è fatta di un filo di seta così sottile che un alito di vento la distrugge. Eppure per il ragno è un rifugio sicuro. Per me è una semplice ragnatela. Quando soffia il vento, la piuma danza nella sua corrente. Ma la piuma, molto più debole del vento, non può fare diversamente. È così che sono gli uomini? Ce ne sono di forti e di deboli. Tu non vedi. Cos'è più forte? Questa tavola di legno o la tua mano? La tavola, maestro. Colpisci la tavola, usando la tua mano come un'arma. Ecco che la tavola ha ceduto. Ti dice qualcosa? Il più debole può essere il più forte. Immagina il corso della vita come un fiume. Un uomo galleggia e il suo cammino è facile. Se invece lotta per risalire la corrente, allora si esaurisce. Per essere unito all'universo, ognuno deve cercare il proprio sentiero e seguirlo. E seguirlo.